Ciao a tutti, siamo un caffè, il caffè che sta proprio qua sul fiume, un posto veramente carino. E' un calmi e cioccolato, sono di pecorella. Ah che carino, abbiamo comprato due salvadanai che torneranno utili per quando a fine settimana gli diamo una piccola mancetta ai bambini e con quella mancetta poi loro, se riordinano bene la loro stanza, i loro giochi, tutto quanto, poi quando riempiranno tutto il salvadonaio loro potranno comprarsi un giochino, quello che vorranno e questo mi sembra molto ragionevole. E là si vede un video dietro a papà che è la ricostruzione di questo vascello che si vede qua nel fiume che abbiamo visto prima, che è una ricostruzione di un vascello, non è proprio l'originale, il Dambrodi, esatto, qua ci sono tutti i progetti di questo vascello. Ed era una nave che utilizzavano per l'immigrazione, i migranti irlandesi che andavano in America e partivano con il Dambrodi. Il caffè è veramente magnifico. Adesso aspettiamo le nostre cioccolate e poi ripartiremo. Un abbraccio a tutti.